Continuano i lavori nel tratto Bronte-Adrano della 284, si tratta di un intervento fondamentale per la viabilità etnea. Lavori che completano la riqualificazione correttifica di tracciato della strada statale 284, già presente nella seconda parte del percorso tra le due città lato Bronte. Anche nei primi 4 chilometri, al lavoro ultimati, la strada avrà sagoma di tipo C, con una careggiata suddivisa in due corsie, una per senso di marcia da 3,75 metri, ciascuna affiancante da due banchine laterali da 1,50 metri per un totale di 10 metri e 50 centimetri. Spiegazione tecnica che viene fornita dal sito Sicilia In Progress. Nel filmato invece a cura di In Progress su Youtube, in particolare si possono vedere nei primi fotogrammi le strutture del viadotto Giordano, con le tre campate in acciaio corte e neggiavarate. L'opera è costituita da un impalcato continuo su tre campate di luci uguali pari a 60 metri. Il viadotto avrà una piattaforma stradale di larghezza variabile da 14,1 metri a 13,63 metri, più due cordoli laterali portanti una barriera di sicurezza e una rete di protezione, a 20 larghezza pari a 0,75 metri. Più avanti è visibile anche la struttura di imbocco al lato nord della Galleria Artificiale Naviccia, che presenta una lunghezza di 42 metri, come si legge ancora nella spiegazione tecnica fornita dal sito Sicilia In Progress. Nella seconda parte del video di In Progress, una panoramica del tratto centrale della nuova arteria stradale, caratterizzata da altissimi muri di contenimento, rilevati tombini idraulici o un'opera d'arte per consentire l'attraversamento della viabilità locale. Nella parte finale del filmato si può apprezzare l'area dello svincolo Adrano Nord, un'intersezione a livelli spalsati con configurazione a diamante e l'inserimento di due rotatorie che consentono la gestione ottimale dei diversi flussi afferenti allo svincolo. Le due rotatorie sono tra loro connesse da un ramo di collegamento che attraversa in sottopasso, visibile nel filmato, la nuova strada di progetto. Il collegamento con la viabilità esistente è realizzato tramite due tratti di nuova viabilità e con il tracciato dell'attuale strada statale 284 che verrà destinata alla viabilità locale.